Ciao, bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Maria De Filippi arriva al Duomo di Milano al funerale di Silvio Berlusconi vestita di bianco Il suo look stupisce. In realtà la conduttrice indossa una camicia, white, su pantaloni stretti neri per omaggiare il fondatore di Forza Italia L'ex premier, scomparso il 12 giugno all'età di 86 anni, amava ripetere una cosa alle donne Lo svela in tv l'inviata del TG5 Elena Guarieri. Durante la diretta della cerimonia, in onda Reti Unificate su Canale 5, Rete 4 e Italia 1 La scelta di Maria De Filippi è assolutamente voluta. La presentatrice 61enne fa un ultimo regalo al presidente L'imprenditore politico, stando al racconto della giornalista, affermava spesso Vestitevi di bianco perché il nero non fa passare la luce Adorava i colori chiari e non quelli scuri come il nero, che per tradizione viene indossato proprio durante i funerali Alle donne, così, con lo spirito ironico che lo contraddistingueva, amava ripetere di vestire di bianco ed essere possibilmente bionde Cesara Buonamici in studio conferma. Il protocollo dei funerali di stato vuole che l'abito sia nero, ma certamente avrà scelto il bianco perché sa che lui avrebbe voluto così La guarnieri annuisce, lei, da sempre scura di capelli, arricchisce la sua rivelazione aggiungendo Berlusconi lo diceva sempre anche a me Con il suo look la conduttrice omaggia il fondatore di Forza Italia Maria assiste alla cerimonia, fino all'ultimo istante non si sapeva se sarebbe andata, reduce dal suo grande lutto Il 24 febbraio ha dovuto dire addio al marito Maurizio Costanzo, deceduto a 84 anni Berlusconi era molto, molto legato a lui. Grazie per aver guardato l'intero video La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao e ci vediamo nei prossimi video